buon pomeriggio amici buonasera anzi in realtà dunque ragazzi ci siamo e siamo all'ultimo l'ultimo dlc del nostro fantastico spider man remastered allora dire di partire o partire ci sta un modo per fare subito no dobbiamo entrare in partita dobbiamo entrare in partita e e attivare un nuovo contenuto ok dunque dove siamo rimasti quindi abbiamo utilizzato questo fantastico costume faccio veramente schifo vediamo a che cosa tocca tocca a vediamo subito abbiamo questo l'altra volta che ci abbiamo sbloccato dei costumi in bere condi quindi scarlet spider l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto resilienza certo questo si tocca a iron spider armor molto figo questo ragazzi è molto figo c'ha gli occhi tipo calabrone molto bello allora con questo fantastico costume noi ci accingiamo a fare la prima missione del contenuto scaricabile l'ultimo ovvero silver lining la città che non dorme mai episodio 3 silver lining e silver stable torna in campo per rendersi ciò che l'aspetta nella vicenza e conclusione della saga della città che non dorme mai quindi che cosa che l'aspetta pronti vediamo subito cosa cosa non ci interessa la recente rapina al museo è stato solo l'inizio di un violento attacco alla città perbacco e le vittime sono in aumento o no dopo aver quasi ucciso armered del magia il capitano yuri watanabe ha subito una sospensione questo non mi fermerà avrebbe detto al suo capo nota meglio approfondire sembra che non sia finita qui ai diventata cattiva stato dichiarato morto ha ripreso conoscenza e si è dato alla fuga la polizia è sulle sue tracce ma non ha indizi i suoi sgarri continuano a rubare armi e veicoli della sable tra cui un certo progetto olympus a quanto risulta il progetto olympus è cofinanziato da oscorp e sable è una tecnologia di biopotenziamento che ambisce a creare dei super soldati invincibili a mered era già ancora ora è anche indistruttibile sembra che la la ma che indistruttibile su ma quando mai troviamo a mered il dubbio è e a quel punto che cosa facciamo bene gazzetto a che me l'amo che come famo di solito no sto seguendo la polizia verso un impianto oscorp la banda di amer ed è tornata in azione hai novità su yuri ancora niente ti manca vero già eravamo una bella squadra certo non come me e te ma hai capito capisco allora ho una fuori alla oscorp stanno incrementando la produzione del progetto olympus credo sia per questo che gli uomini di amer ed hanno attaccato l'impianto olympus è stato commissionato da sable in seguito a un accordo con osborne durante gli eventi del respiro del diavolo e ho appena scoperto che la merce sarà spedita all'entero in simcaria simcaria il paese di silver sable nonché il teatro di una sanguinosa guerra civile hai letto no non seguo molto la politica internazionale sai ero piuttosto impegnato qui a new york è una storia grossa ti aggiorno appena avremo un minuto sì non sarebbe male non parlare solo di amer per una volta che ne raga non ho seguito un cazzo purtroppo iniziamo bene cioè ho pensato a tutt'altro proprio non ho fatto attenzione minimamente quello che stavano dicendo va bene lo disveleremo man mano strada facendolo e di nuovo parte tutta una sparatoria sempre più grassi vabbè una stramatura abbiamo già vista è una gara di ballo forte tocca a me per quanto apprezzi la nuova armatura rimpiango i vostri patetici completi da gangster anni 70 è vero proprio willison vi frequentate anche fuori dal lavoro o siete solo colleghi la vostra organizzazione è cresciuta troppo troppo in fretta forse nemmeno vi conoscete in tal caso vi presento io vini questo è vini 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 aaaaaa battute razziali eh non se fa così ah ok non soltanto oh grazie risate che rischio Oh no Vabbè quindi che stava da affa qua Quindi tutti con l'armatura mo Ehi Spider-Man Giochiamo a salvagli sbirri? Che maleducato Il tizio con il jetpack non sembra ben intenzioso Salve amici aggressori Dov'è il vostro compare? Nessuno vuole parlare eh? O forse non mi avete sentito per il rumore dei jetpack? Ora basta facciamolo forse! Carina sta cosa Ok ci sarà da ru... Ci sarà da ru... Ci sarà da ru... Ci sarà da ru... Si can questo ilzio ho capito Ok ci sarà da ru... E' un uomo morto E' un uomo morto Sì, non è giusto! Vediamo gli riferimenti! Continua a spostarsi! Avrò la tua destra! Roller dump, scuro, idiota! Vediamo la tua destra! Mi sto un po' scaldando, ragazzi, eh? Ti prego, non farlo! Eccola, eh! Eh, devi recuperare tutta l'armatura che... Tutto l'equipaggiamento qua, eh! Ma ancora non ha capito che non mi deve sparare questa... Oh, finalmente... Oh, finalmente... Ispira, ispira, ispira e ispira! Oggi dove si trova Hammered? Magari lo sapessi, ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare... mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti il podcast di Jason! Dovresti essere il paladino di questa città! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le sue rapine! Confessimi i risultati, mi separa! Così mi ferisci! Ma non hai torto! Chissà! Oh, d'arze! Non ti conosco, ovviamente! E non ne fido di te! Non intralciarmi o dovrai subirne le conseguenze! Non intralciarti in cosa? Mentre cerco di uccidere Hammered! Ah, in bocca al loop! Ah, però! Mena come se deve questa, ragazzi! Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Bello! Bello! Il combattimento è serio, ragazzi, eh! È serio! Bello, raga! È veramente... Te la fa veramente pagare se sbagli soltanto un... Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove ci trovare! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci, potremmo collaborare! Collaborare! Ma che figata, raga! Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Allora... Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci, potremmo collaborare! Collaborare! Nice! Cosa ho sbagliato! Madonna, raga! Allora... Proviamo a fare un... Proviamo a usare qualche... Qualche roba qua! Proviamo a usare qualche... Proviamo a usare qualche... Proviamo a usare qualche... Proviamo a usare qualche... Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Eh... Eh no! No! Potremmo collaborare! Collaborare! Mai! Cosa ho sbagliato stavolta! Non dirmi che ascolti i podcast di Jameson! Dovresti essere il paladino di questa città! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le sue rapide! Con fessimi risultati, mi sembra! Così mi ferisci! Ma non hai torto! Chissà! Potresti aver preso il vado segreto con noi! Ehi! Questo mi offende! Non ti conosco! Ovviamente! Allora... Allora... Minchia! Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci, potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti i podcast di Jameson! Dovresti essere il paladino di questa città! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materi... Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci, potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cos'ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti i podcast di Jameson! Dovresti essere il paladino di questa città! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le sue rapine! Con pessimi risultati, mi sembra! Così mi ferisci! Ma non hai torto! Chissà, dovresti aver stretto un patto segreto con lui! Ehi! Questo mi offende! Non ti conosco! Ovviamente! E non ne fido di te! Non intralciarmi o dovrei subirne le conseguenze! Non intralciarti? In cosa? Mentre cerco di uccidere Hammered! Ah, in bocca al lupo! Farlo fuori è un bel casino! Perché non conosce me! Veramente il nemico più forte che abbiamo mai sentito mai provato questa qua! Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cos'ho sbagliato stavolta! Non dimmi che ascolti il podcast di Jameson! Potresti essere il paladino di questa città! Mai il quarto colpo! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi a... Mai, mai dagli il quarto colpo! Se ti dà il quarto colpo è finito! Dove va poi? Dove, dove... Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! Dimmi dove si trova Hammered! Magari lo sapessi! Ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti il podcast di Jameson! Dovresti essere il paladino di questa città! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le sue rapine! Confessimi i risultati, mi sembra! Così mi ferisci! Ma non hai torto! Chissà! Andresti aver stretto un patto segreto con lui! Ehi! Questo mi offende! Non ti conosco! Ovviamente! E non ne fido di te! Non intralciarmi o dovrei subirne le conseguenze! Non intralciarti in cosa? Mentre cerco di uccidere Hammered! Ah, in bocca al lupo! Farlo fuori è un bel casino! Perché non conosce... Ma è coglione! Sable, mi sembri tesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira! Inspira, espira! A proposito, aspetta! Allora, siccome è tutta una questione schivata... Vediamo un po' se posso mettere qualche gadget... Ah, sì... Questo che cazzo mi frega di sta cosa? Allora, vediamo un attimo... Sì... Vediamo questo... Questo pure non è male... Questo pure non è male... C'è un po' sezione... C'è un po' sezione... Il rio è rotato dove si fissi... Ing developi un po' sezione... C'è un po' sezione... C'è un po' sezione... Dimmi dove ci trova Ameret! Magari lo sapessi, ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti i podcast di Jason! Sable, mi sembri pesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, espira, inspira, espira! Dimmi dove ci trova Ameret! Magari lo sapessi, ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti i podcast di Jason! Dovresti essere il palatino di questa città! Invece hai permesso ad Ameret di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le tue rapine! Con fessimi risultati, mi sembra! Così mi ferisci! Ma non hai torno! Boom! Ha ha ha! Sable, mi sembri pesa! Che ne dici di fare un bel respiro? Inspira, 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 inspira! Dimmi dove si trova Ameret! Magari lo sapessi, ma se la smettessimo di menarci potremmo collaborare! Collaborare? Mai! Cosa ho sbagliato stavolta? Non dirmi che ascolti i podcast di Jason! Dovresti essere il palatino di questa città! Invece hai permesso ad Ameret di rubarmi armi e materiali! Io non ho permesso proprio niente! Sto cercando di sventare le tue rapine! Con fessimi risultati, mi sembra! Così mi ferisci! Ma non hai torto! Chissà! Andresti aver stretto un patto segreto con lui! Ehi! Questo mi offende! Mi conosco! Ovviamente! E non ne fido di te! Non intralciarmi o dovrei subirne le conseguenze! Non intralciarti? Fin cosa? Mentre cerco di uccidere Ameret! Ah, in bocca al lupo! Farlo fuori è un bel casino! Perché non conosce me! No! No! Grazie a tutti 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 Ehi, pensavo fossi un tipo ragionevole So essere ragionevole Ma non sono un tipo Bello Bella battuta Non avevi detto se vuoi ringraziarmi sopra Bevy Regà, complicatissimo eh Scompleto la missione vecchi amici Complicatissimo Era un Eichmann armor Nooo 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 Scubo no Nooo Civilizable Difficilissima a livello ultimate Difficilissima Abbiamo sbloccato tutto ragazzi Quindi l'ultimo costume era Questa roba da bambini Ma che cazzo Ma che cazzo Cioè in realtà non l'abbiamo sbloccati tutti Questo che cazzo Vabbè Comunque bene Abbiamo fatto questo Direi Che prima di vedere che cosa fa Skewball Io direi che Ci salutiamo adesso E ci vediamo alla prossima puntata